in Italia è un discorso e allora arriviamo a una valutazione di questo genere. Ma se parliamo di alleanze, voglio dire l'alleanza l'abbiamo fatta con la Lega, non è che mica condividiamo tutto quello che per la Lega è l'ABC, quindi voglio dire possiamo avere anche dei percorsi eventualmente che possono essere comuni su determinati temi, su altri no. Io ripeto, erano 30 anni che non sentivo i discorsi che ha fatto Alfano a Roma e non sono solo discorsi, sono i principi fondamentali della nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Quando si vede il risultato elettorale non come un obiettivo presupposto del nostro agire, ma lo si vede come fisiologica conseguenza, cambia il mondo ragazzi, fino a ieri lo abbiamo considerato come un obiettivo presupposto dell'agire di un partito, cioè concentriamoci sul capire se dobbiamo fare lo sfondo giallo piuttosto che azzurro, dov'è che li prendiamo di più i voti, era questo il leitmotiv, oltre che a tutta un'altra serie di discorsi di esercizio di potere. Grazie. 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 Grazie.